Torna a riunirsi domani il Consiglio Comunale di Barretta con la seconda convocazione prevista per mercoledì. All'ordine del giorno argomenti di rilievo come le variazioni al bilancio 2016-2018, il piano di studio e la delibera di iniziativa popolare forte di 1200 firme di cittadini raccolte da varie associazioni sul monitoraggio ambientale e aziende insalubri. Ed è soprattutto su quest'ultimo punto che sta già montando la polemica. La delibera così com'è non ha trovato piena condivisione nella maggioranza e per questo motivo è stato preparato un emendamento che in parte la modifica. La cosa ha fatto insorgere le associazioni che parlano di tentativo di stravolgimento e di atteggiamento morbido se non connivente con cementeria e TIMAC. Sull'argomento è intervenuto il consigliere regionale e comunale Caracciolo che ha proposto in sostanza di rinviare il punto riaprendo un tavolo con le associazioni utile ad un'intesa che soddisfi tutti ed elimini ogni perplessità. Da parte loro le associazioni che domani si prevede saranno presenti in massa tra il pubblico ricordano come già a marzo quando la delibera approdò per la prima volta in consiglio fu rinviata con analoghe motivazioni e temono che un ulteriore rinvio sia alle calende greche e serva solo a far prendere fiato ad una maggioranza in difficoltà. Di certo non accetteranno mai l'approvazione di un emendamento che secondo loro possa stravolgere il provvedimento e in tal senso trapela che un rinvio sarebbe in fondo il danno minore. Staremo a vedere anche perché tutta la situazione è molto fluida. Sono previste diverse assenze tra queste anche quella del consigliere Caracciolo e i numeri asfittici della maggioranza potrebbero non esserci così come regolarmente avviene. Non si sa quindi se la maggioranza ci sarà e se la minoranza sarà disposta a mantenere il numero legale. Non si sa chi dovrebbe fare la proposta di rinvio e se il punto fosse introdotto non si sa chi dovrà presentare l'emendamento forse l'assessore all'ambiente di Vincenzo. Insomma c'è da aspettarsi tutto e il contrario di tutto come in ogni vigilia di consiglio comunale di una città dove l'unica certezza è l'incertezza. A proposito dell'emendamento già ci siamo soffermati sul fatto che è stato scritto in un italiano stentato e raccogliticcio. Troviamo mortificante che nessuno abbia provveduto alle correzioni necessarie né chi lo ha scritto né chi lo ha letto denotando la consuita sciatteria l'approssimazione e la superficialità che sono le peggiori caratteristiche di questa amministrazione. Abbiamo già evidenziato alcune perle oggi vogliamo soffermarci su attenzionare verbo che non esiste in alcun vocabolario e di cui l'Accademia della Crusca prende atto dell'utilizzo ma non lo considera neanche un neologismo. Insomma lo usano le forze di polizia nei loro verbali più i linguisti Alfarano e Basile in consiglio comunale convinti di aver usato traducendo dal dialetto una parola fattizza e di questo soprattutto il primo si compiace molto specie se quando si siede i suoi sodali gli dicono bella parola Giovà e se la utilizza Alfarano giustamente è stata inserita nell'emendamento a quale miglior faro della nostra lingua avrebbero in fondo potuto guardare i suoi estensori. Ben fatto!